Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, iscrivetevi tutti al canale se non siete già iscritti, che seguiamo Coppe Europee, Mercato, Novità. Iscrivetevi, mi raccomando. Condividete il video, seguitemi in massa su Twitter, Alecat91, anche post partita. E guardate il video di oggi sul Milan, che ho parlato anche di Atalanta per il prossimo anno. Spiace, 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 sono dispiaciuto e incazzato, perché secondo tempo l'Atalanta dal 5b, era addirittura già in difficoltà da fine primo tempo l'Atalanta a livello fisico, era veramente una squadra stanca. Poi secondo tempo ha subito molto, peccato, perché l'avevi portata fino alla fine e uno poi magari si illude, diciamo, che poi si riesce a passare invece la qualità dei cambi, la qualità di Mbappé, soprattutto avete visto anche voi, ha fatto la differenza, perché è uscito Gomez, che era un po' il cervello dell'Atalanta. Squadra stanca, che si è abbassata, diciamo, che era molto, molto stanca, molto sulle gambe. Il Paris Saint-Germain ha messo dentro Mbappé e i risultati si sono visti, i risultati si sono visti, però purtroppo i rimpianti non ci sono, nel senso che il Paris Saint-Germain è una squadra che ha dei cambi di tutt'altro livello rispetto a quelli che può schierare l'Atalanta, lo si è visto specialmente nel secondo tempo e l'Atalanta esce, cioè mentre tu fai entrare un giovane, capito, delle tue giovanili, loro fanno entrare gli Mbappé, i Paredes, i Draxler e questa gente qui, quindi c'è poco da recriminare sicuramente. Peccato, peccato perché specialmente nel primo tempo ho visto veramente un'Atalanta con personalità, ho visto un'Atalanta gagliarda, un'Atalanta che ci ha messo Fioretto e ci ha messo anche la gamba, un gioco fantastico, specialmente nei primi 40 minuti, veramente bei triangoli, gente che si trova, gente che gioca a memoria, un Paris Saint-Germain che soffre, condizione atletica per me ha fatto la differenza, sicuramente il Paris Saint-Germain era anche più riposato perché le squadre francesi e anche il Leone hanno giocato meno rispetto all'Atalanta e poi la qualità dei cambi, io questo dico, per il resto l'Atalanta rimproveri deve farsene pochi perché a livello di prestazioni non ce n'è uno che dico mi ha deluso. Zapata è stato defilato dal gioco, sì, però ha fatto un lavoro sporco, diciamo che è servito alla squadra per creare inserimenti, ecco se devo trovarne proprio uno magari che non mi ha entusiasmato, Deron non mi aveva entusiasmato all'inizio poi però ha recuperato, Freuler ha fatto una partita pazzesca, semplicemente è andata così, hai trovato un avversario più in palla, più in forma e questa è la situazione, mi spiace, mi spiace perché quando vedi queste partite qui a volte dice meglio perdere 3-0, 4-0 che allora uno neanche si illude però caspita arrivare all'ottantottesimo, ottantanovesimo sull'1-0 e perdere 2-1 fa veramente male, fa veramente male. Allora vado in fase di commento, scusate vado in fase di pagelle, allora Sportiello, ma Sportiello ha fatto la sua partita, diciamo non ha fatto queste parate eclatanti, gli do un 6 e mezzo perché comunque è un portiere che a questi livelli non ha mai giocato, me lo ricordo io la Fiorentina mi ha fatto anche abbastanza soffrire a suo tempo, quindi giocare a questi livelli, 6 e mezzo solo perché ha tenuto. Toloi 6 e mezzo anche lui dai, a Caldara do 6 più, Jim City mi è piaciuto, era stanco poi è stato sostituito però ha fatto un primo tempo di personalità, gli do dal 6 al 7, ecco a Teboer cose buone, cose meno buone, gli do un 6 più però diciamo tra i meno, tra i meno, tra quelli che mi hanno impressionato meno ecco. Deron, Deron gli do 6 e mezzo anche a lui, Froiler 7 più, Gossens gli do 6 e mezzo, Gomez finché è stato in campo, oddio non ha fatto una partita propriamente entusiasmante in questa, però senti che ha il cervello, senti che la squadra si affida, senti che è un leader, senti che è uno che comunque regge su di sé la squadra, quindi gli do comunque 6 e mezzo, Pasli ci ha fatto un gran gol, gli do 7, Zapata 6, per quel che riguarda le riserve, Palomino aveva rischiato di chiuderla lui prima la partita con la cappella, poi ha recuperato 6 dai, non me la sento di dare insufficienze, Muriel, ecco anche lui non ha giocato tantissimo però qualche gestione migliore poteva farla, sarebbe da 6 meno, sarebbe 6 meno se si vuole gli si dà un 6 politico, Ruslan, Malinowski 6, da Riva 6 e mezzo perché è giovane, Castagne 6, Gasperini non ho niente da rimproveragli, anche il fatto di non aver cambiato Zapata prima perché comunque è una mossa che denota coraggio, l'Atalanta ha giocato bene, è arrivata fin qua, ha fatto la sua partita, gli do 7, 7 a Gasperini, Paris Saint-Germain, allora Navas a me è un portiere che è sempre piaciuto, finché è stato in campo gli do tranquillamente dal 6 al 7, Bernat non mi ha entusiasmato, gli do 5 e mezzo, Kimpembe mi piace, questo giocatore mi piace, personalità mi ricordo, ecco, siccome devo spararla perché sennò mi sento male, Kimpembe è il nuovo Varane, va bene, Kimpembe è il nuovo Varane, Raphael Varane, ecco, Kimpembe è il nuovo Varane, gli do 7, Varane di comodo, va bene, gli do 7, Tiago Silva è bene, bene, 7 anche lui perché ha domato Zapata e non è facile, Kerrer, non ci vedo niente di che, 5 e mezzo, Herrera, 5 e mezzo, Marchinhos, 6, Gueye, 6, Icardi, 5 perché non l'ho mai visto, spettatore non pagante, Mauro Icardi, 5, Neymar, eh, Neymar ha giocato bene, Neymar tanta classe, a volte sembra che abbia il pallone attaccato e anche veloce, 7 e più, Sarabia, 5 e mezzo, non mi ha entusiasmato, meglio Sanabria del Genoa, Mbappé, 7 e mezzo perché è entrato acciaccato ma ha risolto la partita, Paredes, 6 e mezzo, Rico senza voto, Ciupo Motting ha fatto il gol finale, 7, Draxler, 6 e mezzo, Tuchel, cosa vuoi dargli, cioè io non penso che il Paris Saint Germain abbia vinto per meriti dell'allenatore, per carità, stiamo parlando di un allenatore che comunque è in semifinale di Champions League, però sì, è stato bravo a gestire i cambi, quello sì, è stato bravo a gestire i cambi, è comunque passato dal 6 al 7, dal 6 al 7, questo è il voto che do a lui, ripeto, spiazze, spiazze per i ragazzi, spiazze per i ragazzi, perché comunque c'era il saporino, diciamo il languorino di farcela, poi purtroppo sei uscito, sei uscito, comunque dopo quando darò i voti farò il video sui voti alla Serie A dell'Atalanta, anche all'Atalanta ovviamente darò il suo voto tenendo conto di tutto, delle coppe, della Champions, ho visto gente che ha fatto le pagelle alla Serie A, ma come fai a dare le pagelle alle squadre che ci sono ancora le coppe che si giocano, quindi aspetterò assolutamente a questo punto l'Inter, aspettiamo il finale dell'Inter, sperando che vada avanti il più possibile, e poi diamo i voti a tutte le squadre, insomma farò un video dando i voti alla stagione di tutte le squadre, spiazze, ripeto, spiazze, adesso il Paris Saint Germain incontrerà una tra Atletico e Lipsia, probabilmente io se fossi il Paris Saint Germain quasi quasi sceglierai Lipsia, perché comunque è una squadra che tende a giocare più aperta, quindi a lasciare magari un po' di più spazi, l'Atletico potrebbe crearti dei problemi, penso che l'Atalanta abbia pagato anche le fatiche della stagione, ripeto, una stagione tirata, una stagione che l'ha vista protagonista, e quindi paghi anche questo, io penso che il riposo del Paris Saint Germain abbia influito, si è visto proprio una squadra che per carità, anche il Paris Saint Germain ha denunciato stanchezza, ma era una stanchezza fisiologica, comunque da partita, da caldo, l'Atalanta invece vedevi in tanti giocatori, l'ho vista in Zapata, l'ho vista anche in Gomez, l'ho vista in molti, era una stanchezza da stagione, era una stanchezza da, diciamo, gare che avevi accumulato, e invece ho visto maggior freschezza nel Paris Saint Germain. Questo volevo dirvi, ditemi anche voi la vostra, condividete il video, iscrivetevi al canale, mi spiazze, 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 ad una certa ci ho creduto, invece, un caro saluto e buonanotte.